Rocco e Vladi, ma qua vogliono sapere... Se non posso neanche fare il potere... Anche Vladi mi lo fai... Salute! Rocco 43 e i Vladi 34 34 34 Mi hai detto che sono grasso e poi mi fai bene Si, c'è ma... Giuseppe, ce l'hai che chiede? Sì, l'aeroporto... Dì, dì, dì... La città Luigi... 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 Lui c'erano in gruppo fa... Quanti? Nicchia... Ti ho sbarbata mai... 14 anni è una vita... 14 anni di differenza... Cacchio ma... Passa il tempo... Si, io ho messo così da ieri sera... Guarda... Stai prendendo... No, lo tirò... Ma... Spagnoli mondiali proprio... C'è la mezza... Mondiali in mezza... No... Riprenda te Valentino... La roba della mia... Non la stierò mica... Ma che sarebbe altro... Eh, mia moglie me la stierò... Ma che cazzo stierà la mia... Tra la piega i pantaloncini... Auguri, Vladi... Grazie Luigi... E' del mondo... Igor... Auguri Igor... E' anche adesso... E' il suo fratello... Ma lui... Il mondo è stretto... Ma chi mi ha portato... Ma chi mi ha portato... Ma chi mi ha portato sul bel cappellino? Il mondo del cinque... Igor... Dove sei Pagliante? Cordò... Bello... Dici di venire in sede... E' un po' qui nel giardino... In sede... In sede... Nel giardino... In sede... In sede... E' il patio della sede... E poi qua la domenica... Bisogna fare a bo... Perché soltanto qua ci sono quelli... Del rod della domenica... Quindi... Oggi... Siamo in comproprietà... Siamo in comproprietà... Ma loro anche in... Anche in inverno... Quando fa freddo... Sì sì... E' una cosa facile... E' una cosa facile... E' un po' che si... L'abbiamo portato... E' un po' che si... E' un po' che si... E' un po' che si... Oggi è un po'... Ciao Carниз... Allora? Il Pinocco, gli anni Rocco... Ahhhh... La lì le agorie a Rocco... Ciao... Ciao Andrea... Setti... Leonora... Questa è Erika? No che è uno... Erika! E allora... E la mossa fila... Eh stai bene... Dto che è l'Erika? E lì... L'Erika... Allora? C'è l'ho... Però quello lì è bello fresco... C'hai l'occhio per lo lungo, eh? C'hai l'occhio lungo, eh? Cazzo, ma tu non bevi? No, non bevi. Ma oggi si è passato. C'è arrivato secondo noi. Mamma, ed è più fotogenico di tutti. Mi sono fermato, mi sono andato a camminare. Io ho visto colpiamente stasera, ma adesso stai 15 chilometri. Ma non è meglio, ma tu hai detto che vedi niente, come è meglio? Quando sono andato, non è meglio. Non è meglio, sono andato in giro a fare un genio. No, 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 no. Due misteri che arrivano da Erika. E anche Yugo. Dov'è Yugo? Un po' è strano, il coso che c'è la roba. Quello che mezzo un partito. Che piaccia è? Non li prendete anche. E' certo. Cioè, puoi guardare gli altri che bevono. E' l'acqua? No, è pezzo. No, l'acqua. No, l'acqua. Acqua la fontanella. No, siamo a stemi. Acqua non è bella. Non siamo a stemi, acqua non è bella. C'è l'aranciata, anche l'aranciata. Dai, Erika, un boccino. Va beh, dai, fammi. Un goccio bello. Un goccio che fa bene. Bassa, bassa, bassa. Non dice Enica. Guarda che tu fai tre secondi meno al chilometro la prossima gara. No, hai mani. Mi piace. Domani? Gareggi domani? No, abbiamo un test. Fai un test al collico. Due secondi meno al chilometro. 41 è tenuti bene, sì, lo dico, 41 è tenuti bene. Tu lì era un po' la vecchiazza e li porto bene, però già mi sanno. Sta correndo per mantenere la forma fisica. Ah, bravo. Per mantenere, fa mantenimento. Un po' di maniera. Ciao ragazzi. Cosa c'è? 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 Grazie.